Fibromialgia. Ne vogliamo parlare con il dottor Ferruccio Rosati, direttore dell'unità operativa di reumatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Abbiamo detto anche dolore al femminile. Perché dottore? La fibromialgia colpisce prevalentemente il genere femminile. Diciamo il rapporto è 8 a 1. Ma ecco, 8 a 1 quindi è importante. Ma che cos'è la fibromialgia? La fibromialgia è una malattia molto complessa e anche di battuta, perché la diagnosi è prevalentemente clinica e quindi non ci sono esami diagnostici positivi per la malattia. Gli esami diagnostici devono escludere altre malattie che possono mimare la fibromialgia, però non ci sono esami né di laboratorio né di imaging, risonanze, tacco, che possono confermare la diagnosi. Comunque, quello che abbiamo visto, la fibromialgia, è un dolore diffuso nel corpo? Certo. È una malattia caratterizzata appunto da un dolore diffuso in tutta l'area del corpo. Sì. Un dolore che cambia di giorno in giorno, anche di momento in momento, che interessa tutte le aree dell'organismo. E in maniera particolare sono stati evidenziati dei punti precisi di dolorabilità chiamati tender points, che poi magari vedremo nella diapositiva successiva, e al dolore diffuso sono associati altri sintomi caratteristici che permettono di identificare in maniera non equivoca questa diagnosi. Perché al dolore devono essere associati altri sintomi che permettono di caratterizzare questa malattia che in fondo, ricordiamo, è stata codificata come malattia soltanto negli ultimi 20-25 anni. Perché prima non esisteva. No, esisteva la malattia. Sì, però nel senso... Non era stata capita in fondo che questa malattia aveva le caratteristiche che la distinguevano da altri casi. Allora, abbiamo detto incidenza femminile, dolore diffuso su tutto il corpo. Associato a, però anche a affaticabilità, debolezza muscolare, nel circa il 100% dei casi c'è anche una debolezza muscolare. Sì. Ci sono alterazioni anche psicologiche come deficit di memoria, di concentrazione. Poi se uno non dorme, voglio dire. E poi c'è turbe del sonno con risvegli notturni perché sembrerebbe che alla base di amplificazione del dolore ci sia anche una riduzione della fase REM del sonno che è dove l'organismo si rilassa completamente e quindi ristora, restora, ristora. Sì, perché il sonno è come un cibo per il nostro organismo, quindi quando non lo si fa è ovvio che poi va in stress profondo. Allora, già vediamo qui un'immagine di un personaggio che è Lady Gaga. Questo ha permesso di pubblicizzare in maniera notevole questa malattia perché ovviamente fa più una notizia come questa che dieci congressi. Purtroppo funziona così, però lei ha dovuto abbandonare proprio un tour in tutto il mondo perché aveva diagnosticato questa patologia. Come si fa a capire, perché voglio dire uno si sente dolore diffuso, chiedono che la mattina non si alza e si ascolta e non ha qualche dolore, come si fa a percepire un qualcosa? Ecco, diciamo che dobbiamo guardare in tutto l'età di insorgenza. Ecco. Intanto questa malattia insorge in età relativamente giovane, cioè intorno 20-25, anche nei bambini è stata notata, anche nell'adolescenza. Però è precoce, insomma, per l'età. Insorge nei giovani. Diciamo, tra le nostre malattie reumatiche, posso dire che l'unica malattia reumatica non infiammatoria che insorge in età giovane è la fibromialgia, che noi ricordiamo abbiamo malattie infiammatorie e malattie degenerative non infiammatorie. Sì, sì. Quelle infiammatorie possono insorgere in età giovane, anche giovanissima. Ecco, l'unica malattia forse che insorge in età giovane non infiammatoria è la fibromialgia. Quindi insorgenza molto giovane e ribadisco che è più che altro colpito il sesso femminile. Esatto. Poi esami, esami normali, perché uno poi, cosa succede? Che questi soggetti hanno questo dolore diffuso, non riescono a capire… Questi sono i punti, no? Del dolore. Questi sono i punti specifici che permettono di giustificare ancora di più la dolorabilità. Che fibromialgia, come dice il termine stesso, significa dolore nei tessuti fibrosi e nei muscoli. Certo. Però in realtà a livello di questi tessuti non ci sono alterazioni che possono giustificare la sintomatologia. Quindi c'è il dolore ma non… se uno fa degli esami a livello muscolare non c'è nulla. Esattamente. Ecco. E quindi da che… Quindi è una malattia, per terminare la descrizione, extra-articolare. Sì. Quindi non comporta alterazioni articolari, non porta deformazioni. Come si vede a volte, che ne so, le dita delle mani che sono un po' storte, eccetera. Esattamente. Quindi non dà deformazioni all'articolazione, però… C'è dolore diffuso, dolore migrante, caratteristiche variabili che possono essere dolore puntorio, parestesie, formicoli, oppure sensazione di dolore strisciante. Sì. Di dolore strisciante. Esami normali, esami normali e un dolore cronico che dura mesi, per non dire anni. Quindi per diagnosticare questo, dottore? Quindi dalla sintomatologia, l'esame obiettivo, la negatività degli esami di laboratorio permettono di formulare la diagnosi. Per quanto riguarda poi le cure, mi viene da pensare, perché si può guarire oppure dobbiamo sempre curarla? No, diciamo che purtroppo è una malattia, non è facile, non si guarisce, possiamo dire che non si guarisce di questa malattia. Diciamo, però è una malattia che non comporta invalidità, non comporta una riduzione della durata della vita, e la prima terapia è la diagnosi, perché quando il soggetto, che dopo ho girato vari specialisti, ha fatto diversi esami, magari esami diagnostici più svariati, alla fine finalmente arriva ad una diagnosi, la diagnosi è già la prima terapia, perché il paziente veramente si rende conto di non essere un fuori di testa, ma che è una malattia ben identificata e da quel momento inizia la terapia. La terapia consiste in una terapia ovviamente multiprofessionale, deve essere una terapia non farmacologica, e poi se non basta... Vediamo qui proprio l'elenco. Ecco, la terapia fisica è la prima approccia terapia. Quindi attività fisica. L'attività fisica continua, costante, di allungamento, ma tutta l'attività fisica va bene, costante, e se l'attività fisica non è sufficiente per attenuare il dolore, la rigidità muscolare, che permette ovviamente anche di ridurre la sensibilità al dolore, si devono quindi ricorrere ad altri trattamenti che possono essere anche psicologici o alla fine anche farmacologici, ovviamente. Certo. Detto questo poi si può continuare una vita normale, perché insomma da quello che abbiamo visto è molto invalidante come patologia, no? Può essere invalidante, però ripeto, non evolutiva. Allora io ringrazio il dottor Ferruccio Rosati, ve lo ripresento, direttore dell'unità operativa di reumatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Ok.